Mercoledì 18 settembre, buongiorno, ben ritrovati all'appuntamento della rassegna stampa di TRG. Prima pagina, le notizie, le principali notizie in evidenza dai quotidiani dell'Umbria. Si parla di arresti per droga, si parla del sindaco di Terni Bandecchi, si parla di una legge, quella per la famiglia, che è stata di fatto varata ieri in Consiglio regionale, ma si parla anche del caso Sogepo a Città di Castello con la richiesta di arresto per l'ex amministratore Cristian Goraccia. Andiamo a vedere nel dettaglio i quotidiani partendo proprio dal Corriere dell'Umbria e da Terni Bandecchi. Chiarirò tutto, la Procura della Repubblica di Roma ha notificato l'avviso di chiusura delle indagini a Stefano Bandecchi per la presunta maxievasione fiscale dell'Università Cusano. Il leader di Alternativa Popolare, Bandecchi, dice «Questa è una bellissima giornata, per me in realtà sarà l'occasione per chiarire tutto». E poi Spolete Foligno, traffico di droga, in quattro finiscono in carcere, mentre si guarda alle prossime elezioni regionali, legge elettorale, modifica in extremis, centrodestra e centrosinistra lavorano a una modifica in extremis della legge elettorale. A Perugia rinasce la Cappella Oddi, a Gubbio Vescovo di Fida, un prete scismatico per una messa in un cimitero di Cantiano. E poi ancora andiamo nella parte centrale, da Foligno una nuova illuminazione in 15 strade del centro. Ad Amelia, oggi l'ultimo saluto al 47enne, morto folgorato, aveva lavorato alla San Gemini. Parliamo dello Stadio Curie, siamo a Perugia, si lavora per la ristrutturazione. Questo era il dorso del Corriere, andiamo alla Nazione, dorso regionale. Come vedete il titolo, fiumi di droga per la Movida, sette finiscono nei guai. Siamo nel territorio di Foligno Spoleto, quattro in carcere, tre domiciliari dopo la denuncia di una mamma. La droga arrivava direttamente dalla riviera Adriatica. E poi la fotonotizia che ci fa parlare di 118, di sanità e di emergenza, ospedale più sicuro alla Santa Maria della Misericordia, braccialetto anti-aggressione per il personale del pronto soccorso, che è sempre più soggetto ad aggressioni, tre casi di violenza al mese su medici ed inferiore. In realtà la legge sulla famiglia è stata approvata dal Consiglio regionale e poi Città di Castello, il caso Sogepu e la Maxi Tangente, il rischio di arresto per l'ex amministratore Cristian Goracci. Ancora dalla Nazione, i sapori del cinema, cinque weekend in tutta l'Umbria tra film ed enogastronomia, Perugia, Oddi, rinasce, la cappella. Andiamo al messaggero, il dorso regionale, braccialetto anti-violenza in corsia. Anche qui parliamo dunque di sanità e parliamo dell'ospedale di Perugia, dove arriva la protezione per medici e infermieri del pronto soccorso, sempre più soggetti ad aggressioni. Andiamo a Terni, parliamo di politica. C'è infatti Orlando Mastelli che lascia Fratelli d'Italia, coerenza verso chi mi ha votato. Approvata in Consiglio regionale la legge sulla famiglia, con 30 milioni di euro a disposizione per favorire le nascite. E poi, anche sul messaggero ovviamente, il titolo in evidenza sulla cronaca, stroncato traffico di coca destinata alla mala movida. Siamo a Spoleto, blitz dei carabinieri all'alba, sette misure cautelari. Gli spacciatori rifornivano i clienti di Foligno e di Spoleto. Mentre il caso Sogepu, siamo a città di Castello, appalto per la raccolta dei rifiuti. La procura chiede tre arresti per un appalto che si ritiene, ma è un'ipotesi truccato da tangenti. La vicenda societaria si complica di nuovo, parliamo di calcio. Siamo in Serie C, Ternana, cessione nel caos. C'è il rischio di penalizzazione. Ne abbiamo ovviamente parlato ieri sera nella nostra puntata di Arena C, che vi ricordo torna in replica quest'oggi alle ore 17.15. E ancora, sempre da Terni, parte il Festival Itinerante, una passeggiata nell'arte. Andiamo nel dettaglio a vedere alcune delle pagine in primo piano. Dalla nazione e famiglia, la legge è realtà. Ieri infatti il Consiglio regionale ha approvato l'atto per sostegni a minori, natalità, scuole e sport. Però fuori esplode la protesta. Infatti, chi protestava all'esterno di Palazzo Cesaroni dice è un testo ideologico, patriarcale, oscurantista, penalizza le donne e considera solo il matrimonio. E poi, ancora dalle pagine in evidenza, parliamo del punto fatto ieri sul 118 e l'attività del pronto soccorso in Umbria. La violenza contro i sanitari cresce. A Perugia tre episodi al mese, ovvero di aggressioni e violenze nei confronti di medici ed infermieri. E allora arriva il braccialetto anti-aggressori. Sarà in dotazione a medici e infermieri del capoluogo, di modo che possano difendersi dalle aggressioni. La Regione chiede anche aiuto alla Prefettura. Poi nel dettaglio alle 7.30, nella rassegna stampa, vedremo i numeri. L'altro fatto di cronaca in evidenza, quest'oggi rifornivano di droga mezza Umbria. Siamo tra Spoleto e Foligno, in sette nella rete dei carabinieri. L'indagine è scattata dopo la denuncia di una mamma che una mattina aveva lanciato, una mamma di Spoleto, aveva lanciato un appello ai carabinieri di Spoleto aiutatemi, mio figlio fa uso di cocaina. Parte l'inchiesta e alla fine si scopre che c'è un vero e proprio traffico di cocaina che proviene dall'area marchigiana, da Fano praticamente, e trova come luogo di spaccio proprio Foligno e Spoleto. Andiamo a Umbria, a rischio di volta. Spoleto la situazione più critica nel festival. Il rapporto tra magistrati ed amministrativi è 2,8. A Perugia, che se ha difficoltà, è di 4. Il carico di lavoro a Spoleto sta diventando davvero impossibile. E poi anche il messaggero ovviamente si occupa di questo blitz che ha portato a sette arresti, quattro in carcere e tre ai domiciliari, tra Vigne e Spoleto, fiumi di cocaina, le stroncate a rete di spaccio, riforniva la mala movida. Invece a Perugia sono state trovate oltre 20.000 dosi di sostanze stupefacenti, la paura dell'aumento del crack, dalle tracce di fentanil nell'eroina, al sequestro più grande d'Italia di una potentissima droga sintetica. Andiamo avanti e sempre dal messaggero. Andiamo in consiglio regionale. Ieri è stata approvata la legge sulla famiglia, incentivo alle nascite. La regione stanzia 30 milioni di aiuti per sostenere le famiglie. Fondi per asili nido, bonus neomamme, ma anche in favore del welfare aziendale. E poi andiamo al Corriere dell'Umbria che appunta l'attenzione su itinerari fra cinema e sapori. È stato presentato un programma che vede coinvolti cinque festival storici del territorio. Si tratta di un'iniziativa degli Assessorati Regionali a Turismo, Ambiente e Agricoltura, coadiuvata dai Galli, finalizzata appunto a promuovere l'immagine dell'Umbria terra di cinema. Quali sono i festival dell'Umbria che aderiscono a questo progetto? Sono Terni Film Festival, il Festival del Cinema di Spello, Le Vie del Cinema di Narni, Perso, ovvero Perugia Social Film Festival e Umbria Film Festival di Montone. Questo per le pagine in evidenza. Andiamo a vedere nel dettaglio quelli che sono i singoli territori, ripartendo dal Corriere dell'Umbria. Quest'oggi campeggia il titolo da Perugia sulla rinascita della Cappella degli Oddi, dal recupero vittuale della para di Raffaello all'opera del Bonfigli fino alla ricostruzione dell'altare. Ieri è stato presentato questo progetto portato a termine. E poi è lì soccorso sempre al lavoro, l'abbiamo visto. Ieri è stato presentato il rapporto dell'azienda ospedaliera numeri in crescita e investimenti per 70 milioni di euro. E poi la palestra di Balanzano. C'è l'ok al progetto, ma tra le polemiche l'unità in pianti sportivi ha mostrato il disco verde al piano esecutivo contestato in campagna elettorale. E poi ancora da Perugia, nuovo Curi, versione ridotta. Il progetto con torrette e copertura stile Marassi già elaborato da Minestrini, contatti fra Arena, SRL e società. E poi tre giorni speciali. Siamo sempre a Perugia con Kings Beat, ecco il Festival delle Famiglie, anteprima venerdì al Posto Modernissimo, poi sabato e domenica eventi a Piazza del Melo, un festival dedicato proprio alle famiglie. Ancora dal Corriere siamo a Città della Pieve, Salci prova a rinascere, il borgo è disabitato da 40 anni, ma l'attuale proprietà è resti a vendere ai potenziali acquirenti. Ancora siamo nel territorio di Assisi, torna alla Festa degli Angeli, sabato e domenica in programma l'evento nato dal desiderio di stare vicini alle famiglie che hanno perso un figlio. E poi a Bastia Umbra, in auto con cocaina ed ascisce, due arresti ed una denuncia. A Todi, la carta dedicata a te, un aiuto per 199 famiglie. L'assessore Marta, vogliamo garantire una soglia minima di benessere ad ogni nucleo. E poi andiamo a Gubbio, meglio ancora in realtà andiamo a Cantiano, quindi siamo in territorio marchigiano, prete scismatico, celebra messa di fida del Vescovo. Maccabiani per la Chiesa è stato ordinato illegittimamente, nei giorni scorsi ha celebrato in un cimitero a Cantiano, non avrebbe potuto farlo. A Gubbio il ministro Locatelli ha fatto visita ieri alla città, Questa è la foto fatta con i ragazzi, gli ospiti, gli disabili adulti della comunità di Capodarco, ma è stata anche alla Bottega Azzurra. Vedremo un servizio nella rassegna stampa delle 7.30. Siamo a Città di Castello, canale web dedicato ai giovani, una piattaforma rivolta a chi ha tra i 16 e i 32 anni, scuola di musica niente retta per gli allievi con disabilità, è una delle novità previste dall'Istituto Tifernate, e poi torna al centro storico l'evento dedicato ai golosi, ovvero altro cioccolato, dal 25 al 27 ottobre. Ancora contro gli allegamenti a Riosecco servono interventi urgenti. L'interrogazione di Castello cambia. Siamo ad Umbertide, comitato rinascita 9 marzo, l'obiettivo è la finanziaria, residenti hanno incontrato il ministro della protezione civile Musumeci. E poi ancora andiamo a Nocera Umbra, consiglio aperto sull'eolico e la richiesta di Montironi dopo la pubblicazione del progetto per il parco Fondi di Colle Croce. Ancora una mostra su Ulisse Ribustini nella cattedrale di San Francesco, il taglio del nastro è previsto sabato alle ore 18. Andiamo a Foligno, nuova luce in pieno centro, in arrivo 93 apparecchi di illuminazione a LED in 15 vie, affidati lavori alla ditta, tutte le zone interessate. E poi ancora siamo sempre a Foligno, Bufalini, una vita piena di risate, l'attore caratterista Folignate vanta oltre 50 film per il grande piccolo schermo, il dialetto lo ha reso un personaggio assolutamente unico. A Spoleto, l'abbiamo visto nelle pagine di Cronaca Regionale, è stata sgominata una banda dello spaccio, sette arresti su richiesta della procura, di cui quattro in carcere e tre domiciliari, si tratta di albanesi ed italiani. E poi atleti speciali premiati in comune, siamo sempre a Spoleto, si tratta dei giovani diversamente abili, della cooperativa Il Cerchio. Ancora andiamo nel territorio di Terni, chiuse le indagini su Bandecchi. L'imprenditore respinge le accuse di evasione fiscale relativa all'attività dell'Università Cusano, mai sentito finora dai magistrati, dice, ora però potrò chiarire la mia posizione. Stop a linea produttiva e cassa integrazione al via da martedì. Si attende la convocazione delle parti al Ministero delle imprese, mentre l'onorevole Nevi lancia l'allarme per l'impennata dei costi dell'energia. Il tema ovviamente è AST. Due consiglieri in fuga da Fratelli d'Italia, siamo sempre a Terni, Orlando Mastelli e Cinzia Fabrizi, escono allo scoperto dopo la firma dell'intesa con Bandecchi. Intanto, Alternativa Popolare entrerà al governo con il presidente Alli. Il partito pronto al grande salto nell'esecutivo nazionale, ma il sindaco assicura che resterà ad occuparsi di Palazzo Spada. Il comune di Terni vara un altro bando, Palazzo Spada cambia requisiti per accedere al lavoro di cittadinanza, sarà pagato di più. E poi ancora, siamo ad Orvieto, progetto con i figli dei detenuti. Nel carcere di Via Roma, il programma di sostegno alla genitorialità, un piano anche per attività di pratica sportiva. E in basso da Narni, lavoratori del canile, ritardi nel pagamento degli stipendi, lo segnala la CISL. Questa era la pagina, l'ultima pagina in evidenza del Corriere. Andiamo alla Nazione, ripartiamo da Perugia. L'attenzione oggi a Perugia è tutto per il recupero della Cappella Oddi. Anche la Nazione dedica a questo una pagina. Come vedete, Perugia ritrova un tesoro, rinasce la Cappella degli Oddi, inaugurazione a San Francesco al Prato, dopo un lungo e complesso restauro. E poi sabato e domenica a Piazza del Melo, effetti speciali, festival tra arte e scienza, la città del futuro con cani robot e biciclette. Siamo nel territorio del lago, scontro sulla tutela del lago, ancora botta e risposta, tra PD e Lega, i problemi del Trasimeno, dopo la presenza del ministro Musumesci, continuano le polemiche. E poi ad Assisi, nel nome di San Francesco, ha siglato un patto di amicizia tra Assisi e Chiusi della Verna. A Bastia, trovati con la droga nell'auto, due arresti e una denuncia, i tre sono stati sottoposti a un controllo stradale di routine, sono stati sorpresi dagli agenti, in possesso di hashish, cocaina e denaro contante. E poi andiamo nel territorio di Gubbio, disagi per i lavori alla Contessa, Liberi e Democratici e Gubbio Democratica, presentano un ordine del giorno in Consiglio Comunale, perché siano garantiti i ristori a chi ne ha diritto. E poi, ancora Gubbio, il Capitano Pasquale Moriglia, parliamo dei carabinieri, alla guida dei carabinieri, 40 anni, l'ultimo incarico ricoperto a Messina. A Gualdo Tadino, c'è la rassegna di arte teatrale, è stato presentato ieri il cartellone, a cura dell'Associazione Note di Teatro. A Gubbio, la scuola musicale si presenta con un evento autoprodotto, l'appuntamento è per lo spettacolo di domani, alle 12.30 verrà presentato. Andiamo a Città di Castello, Sogepu, inchiesta sulla maxitangente, l'ombra dell'arresto su Goracci, si indaga sull'appalto per i rifiuti in Alto Tevere e su 750 mila euro sospetti, ex amministratore finisce nel mirino. Scuola e lavoro, ragazzi in prima fila, in questo caso siamo sempre a Città di Castello, sul web nasce una super piattaforma. A Foligno, solidarietà nel nome di Jonathan, il toccante, grazie della moglie di Jonathan Spaziani, purtroppo morto prematuramente, avete reso il mondo un posto migliore, non vi dimenticheremo, raccolti 60 mila euro. Ancora andiamo nel territorio di Terni, Masselli e Fabrizi fuggono da Fratelli d'Italia, in politica dicono esiste ancora la coerenza, e poi consultorio a pezzi a Terni, polemica a Palazzo, e ancora siamo nel territorio di Parrano, servizi agli anziani, grazie ai fondi del PNRR, trasporti sanitari e aiuto familiare, verranno infatti finanziati con questi fondi. Lasciamo la nazione, andiamo al messaggero per le sue pagine dei singoli territori, ovviamente il messaggero un pochino dispettoso, chiude la pagina, noi la riapriamo velocemente. Allora andiamo a Perugia, nel dettaglio ripartiamo anzi da Perugia, la pagina del messaggero apre con il rapporto dei sanitari del 118, e la situazione è sempre più grave di aggressione nei loro confronti, botta i medici in corsia, arriva al braccialetto contro le aggressioni, proteggerà gli addetti del pronto soccorso. E poi ancora dal messaggero via Mario Angeloni, siamo sempre a Perugia, di notte è da brividi, i residenti dopo gli ultimi fatti di sangue dicono che nel fine settimana i balordi sono addirittura scatenati. Ruspa contro una bombola di gas, adderuta un'auto rimessa, finisce in fiamme. E poi ancora, corruzione per i rifiuti, qui siamo in Alto Tevere, a città di Castello, chiesti tre arresti, nel mirino la Sogepu, per la procura pagata tangente da 750 mila euro. A Bastia droga in auto, arrestati due albanesi, a Gubbio sono già secchi gli alberi, nel parcheggio dell'ex seminario. Foligno con la Francescana, trionfo di bici d'epoca, rilanciamo il turismo, la ciclo storica dell'Umbria, esalta la storia della due ruote, tra swing, boogie woogie, rock and roll, dal palco del centro. E poi all'Istituto Scarpelli, gli alunni inventano la cover a energia solare, da Spoleto, inchieste e processi, vanno a rallentatore, troppi vuoti in procura, per il personale appello del procuratore Cicchella. L'addio, siamo a Terni, al veleno di Masselli, e quindi l'addio a Fratelli d'Italia, lo devo a chi mi ha votato, lo strappo dopo l'adesione di Bandecchi, al centro-destra per le regionali. Evasione fiscale, il leader di Alternativa Popolare, intanto rischia il processo, cioè il sindaco Bandecchi. Polizia Municipale, parte la rivoluzione del servizio, dalla videosorveglianza rafforzata, alla novità della nascita del turno di notte. E poi, truffa della ruota, derubata Stefania Parisi. Grazie ai militari, dice, ho ritrovato il cellulare. Stefania Parisi, fa parte del consiglio pastorale della diocesi di Terni. E poi, andiamo nel territorio di Amelia, cacciatore morto, la comunità di Amelia e Lutto, la sindaca Pernazza, profondamente toccati dalla perdita di questo ragazzo. E allora, la pagina di cultura ed attualità, in evidenza, titola Olio, Vino e Cinema, è L'Umbria. Eventi, tutti i weekend, fino a novembre, per promuovere l'Umbria come sede, non solo del buon gusto, ma anche del cinema. E poi, Terni, parte il primo festival itinerante. Si inizia giovedì 19 settembre, con un omaggio all'artista Agapito Minucchi. Nella stessa giornata, altri due eventi. E allora, potrete leggere nel pezzo tutti i particolari. Noi per ora apriamo la pagina di sport che, in evidenza, pone la questione Ternana, cessione della Ternana. La Ternana nel caos, cessione in bilico, l'ennesima giornata convulsa. Mancini dice, andiamo dal notaio per finalizzare. Rimane il mistero sulle scadenze per scongiurare la penalizzazione. Vi invito a seguire alle 17.15, quest'oggi, la replica di Arena C con proprio tutti i dettagli. Delusione e rabbia monta la protesta. Questa volta siamo pronti alla mobilitazione. Ovviamente parlano i tifosi. Andiamo a Perugia. Faroni mi piace, grifo da playoff. Parla Riccardo Gauci. Il precedente si è presentato bene. Dall'Argentina solo notizie positive. E poi, campionati regionali allievi e cadetti. Giacomo Palmi vince il triplo e il lungo. Bene, questo per le pagine del messaggero. Andiamo a quelle di sport che arrivano dal Corriere. Qui siamo a Perugia. Baldini sulla strada del Grifo. L'ex Biancorosso è in vetta al campionato col Pescara più 5 su Angella e compagni. E poi, l'iniziativa Perugia-Gubbio insieme nella lotta contro il cancro è stato questo il binomio che ha accompagnato il derby Umbro Perugia-Gubbio. Andiamo con il Corriere a Terni. Ore di fuoco alla Ternana. Rosso Verdi alle prese con il cambio di proprietà. Benedetto Mancini in pole per rilevare il club da guida. Idea Fabbro come nuovo DG esonero per Daniello e c'è lo spettro della penalizzazione in classifica. Altra multa notari sbotta qui siamo a Gubbio ammenda di 1200 euro al Gubbio per i fumogeni lanciati dai tifosi durante il derby. Il presidente non ci sta sono arribbiato soldi buttati a fine anno il conto è salato il patron però applaude anche la squadra siamo compatti ci è mancato di massimo. Per il volley di A1 femminile Bartolini carica la Bartolini il gruppo è già molto unito per gli appassionati di basket weekend a Ponte San Giovanni col memorial Lucal Palmerini. Andiamo in promozione girone B blitz dello Spoleta Foligno una topica di Cosimetti porta avanti Biancorossi pareggia il trentottesimo di Valentini finisce Foligno Spoleto uno a due nella ripresa traversa di cola e il gol da tre punti segnato da Donati. Per il volley di A3 maschile l'Herm Group siamo a San Giustino è sconfitta a Fano per l'Umbria Ternis sì Casucci siamo a Marciano primo trionfo al Master festa al TC Marciano la terza è di Pettenò quarta a Finamonti e chiudo con la Sir alla Michael Jordan Sir ci presenta la squadra ai 150 sponsor e cita il grande campione nessuno vola in alto da solo Tesei la squadra conosciuta in tutto il mondo la Ferdinandi omaggia il presidente con una spilla le foto di questa giornata davvero l'ultimo titolo da Terni la notte bianca dello sport venerdì a Terni a partire dalle ore 18 noi per ora ci fermiamo solo per qualche momento torniamo tra poco alle 7.30 con la rassegna stampa dettagliata ragionata e con i servizi di approfondimento attra poco di approfondimento di approfondimento di approfondimento